I Vescovi hanno sempre il compito di annunciare il Vangelo dando esempio con il loro stile di vita, aprendo cammini nuovi in profonda sintonia con i sacerdoti. Lo ha rilevato Papa Francesco ricevendo i Vescovi spagnoli al termine della visita ad Limina. Il Papa ha ricordato che si avvicina al quinto centenario della nascita di Santa Teresa di Gesù ed ha chiesto anche ai Vescovi di prestare attenzione alle tappe di iniziazione alla vita cristiana e alla famiglia. La famiglia formata cristianamente ha detto è un vero agente di evangelizzazione, e ambiente favorevole per la nascita di nuove vocazioni.